moto contro un autocarro sulla montelabattese centauro muore nell'impatto detenuto evade nascondendosi in un garage di soria la fuga costa un altro anno di pena tennis pesarese in lutto è morto ronny murrone presidente del club baratov svolta su rocca costanza patto fra comune e demanio per riaprire ai visitatori la tradizione della festa del porto fra fuochi cortei di barche concorso di pittura buon inizio settimana a tutti voi che state guardando rossini tv e benvenuti al nostro telegiornale di oggi lunedì 8 luglio che apriamo con un'ultima ora c'è stato infatti un incidente mortale questo pomeriggio sulla montelabattese in strada delle regioni nel territorio comunale di pesaro all'altezza del punto vendita garden plan sul posto la polizia locale per i rilievi di quello che sembrerebbe uno scontro fatale tra un autocarro e un motociclista che è morto in seguito alla gravità delle ferite riportate vi daremo ulteriori raguagli nei prossimi spazi informativi su quello che purtroppo non è stato però l'unico incidente in giornata alle 13 30 torrette di fanno c'è stato infatti uno scontro fra un furgone e un ciclomotore che procedevano nello stesso senso di marcia il 19 anni a bordo della moto è rovinato violentemente a terra ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di ancona altro incidente avvenuto attorno alle 17 a sant'angelo in lizzola dove un'auto è andata a schiantarsi contro un'abitazione andando a provocare una fuga di gas i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area assieme ai tecnici di marchi multiservizi per la riparazione lo scorso mese di maggio vi abbiamo raccontato la rocambolesca evasione di un detenuto recluso nel carcere di pesaro che si rifugiò in un garage nella zona residenziale di soria un mese e mezzo dopo quella cattura il trentenne algerino in questione è andato a processo nel tribunale di pesaro che lo ha e condannato ad un aggravio di pena vediamo l'evasione costa un altro anno di pena si allunga il 2030 il periodo detentivo a carico del trentenne algerino recluso nel carcere di villa fastigi che lo scorso 27 maggio fu protagonista di una spericolata evasione dalla struttura sanitaria di viare di puglia all'ingresso del parco della pace centro medico dove si trovava per una visita fisioterapica ma dalla quale era riuscita a fuggire con scaltrezza uscendo da una finestra per poi darsi la gambe per mezzo chilometri e infine nascondersi in un capanno per attrezzi agricoli di un'abitazione di via lucio accio nel quartiere di soria un riparo quanto mai effimero perché poi fu riacciuffato da carabiniere e polizia meno di un'ora dopo l'evasione grazie al coraggio e all'acume di un agente fuori servizio che ne seguì le mosse il nascondiglio un mese e mezzo dopo in seguito alla richiesta diritto abbreviato dell'avvocato difensore giuseppe briganti il tribunale di pesaro l'ha condannata ad un anno con riconoscimento di vizio parziale di mente e attenuanti generiche condanna che dunque aggravia la pena pregressa fino al 2029 per tentato omicidio violenza sessuale lesioni resistenza pubblica ufficiale per reati commessi a milano un bottino da mezzo milione di euro a tanto potrebbe ammontare il furto di gioielli e preziosi ai danni della villa di agostino cesaroni noto economista e commercialista pesarese sabato sera infatti la sua villa di novilara è stata presa di mira da una banda di ladri che ha approfittato di un'uscita cattolica di cesaroni e della moglie per fare irruzione nella dimora rendere inoffensivo l'allarme e mettere a suo quadro l'abitazione per trovare oggetti di valore la banda presumibilmente di professionisti ha trovato e tagliato la cassaforte portandosi via l'intero contenuto sono in corso le indagini di carabinieri polizia scientifica dolore e incredulità nel mondo del tennis pesarese è infatti venuto a mancare all'età di 68 anni ronni murrone presidente del circolo tennis baratov lo ricordiamo in questo prossimo servizio noi abbiamo già ospitato tre volte pesano la coppa davis probabilmente visto che le edizioni passate sono andate benissimo sia come risultato che anche come partecipazione di pubblico probabilmente succederà ancora mi auguro di cuore con jannick che seguo anche io da quando praticamente aveva cominciato a prendere la racchetta in mano ma soprattutto luca che ho visto crescere proprio giorno dopo giorno all'interno della nostra settimana sognava di riportare i campioni della coppa davis a sfidarsi alla baratov dopo che il trofeo vinto da sinere compagni faceva bella mostra di sé nello stesso circolo che presiedeva un desiderio che ronni murrone aveva espresso appena lo scorso aprile ai microfoni di rossini tv e che ora continuerà a coltivare dall'alto al pari dei tanti appassionati di tennis pesarese che oggi piangono con incredulità la sua scomparsa se ne è andato a 68 anni oronzo murrone da tutti conosciuto come ronni presidente e anima del tennis club baratov è morto stroncato da un male subdolo che ronni aveva sconfitto anni fa e che recentemente era riaffiorato non lasciandogli scampo proprio ieri il tennis club baratov ospitava l'annuale cena di beneficenza dello iopera con 200 partecipanti toccati dall'inevitabile commozione di un lutto nei confronti di una persona apprezzata e stimata da tanti pesaresi quella pesaro che l'aveva adottato quando lui leccese vi era arrivato da ufficiale dell'esercito per poi stabilirvisi sposando la moglie paola che oggi lo piange assieme al figlio alberto e al nipotino gabriele informatore farmaceutico murrone è stato poi vicino al mondo dello sport e negli ultimi mesi aveva anche intrapreso la strada della candidatura al consiglio comunale nella lista forza pesaro con mila della dora aveva assunto la presidenza del tennis club nelle post pandemia un periodo in cui ha vissuto la soddisfazione di un'importante crescita del movimento del quarantesimo anniversario del circolo e della giornata di orgoglio planetario dettata dalla vittoria del ragazzo di casa lucanardi al cospetto di sua maestà novak diokovic a india wells lo scorso marzo lasciamo la cronaca e ci occupiamo adesso di rocca costanza gioiello della città di pesaro che prova ad uscire dal suo stato di abbandono va in questo senso l'incontro tenutosi oggi nel comune di pesaro con il demanio per un accordo volto a riaprire fossato e chiostro della rocca ad eventi culturali da gioiello abbandonato a realtà di nuovo fruibile a distanza di anni rocca costanza lavora per tornare ad essere un luogo frequentato dai pesaresi dai visitatori non soltanto per l'unatantum determinata dal palio dei braceri segnali positivi sono arrivati oggi dall'incontro avuto in comune fra il sindaco biancani e gli assessori pozzi e vimini con cristian torretta direttore regionale marche del demanio incontro al quale seguito l'invio della lettera ufficiale al lente e alla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle marche per rendere fruibile ai visitatori il chiostro e il fossato di rocca costanza già da quest'estate una richiesta che le comune ha posto impegnandosi con i lavori di sistemazione dell'area interessata con interventi quali sfalcio e sistemazione del verde così come della messa in sicurezza per garantire l'ingresso libro al fossato e quello regolamentato del chiostro che potrà accogliere i partecipanti delle visite turistiche ed iniziative culturali come presentazioni di libri e mostre con numero limitato di presenze il demanio tramite il direttore torretta si è reso disponibile all'apertura augurandosi che la soprintendenza faccia altrettanto demanio che intanto sta già incaricando l'impresa che partirà con i lavori a metà settembre per recuperare i servizi igienici e cinque spazi che affacciano sul chiostro per destinarli a sale espositive si tratta di un intervento da 200 mila euro che consenterà dalla prossima primavera di riorganizzare l'uso aumentare le potenzialità e aprire la rocca con nuovi spazi in attesa del progetto più ampio da 7 milioni di euro che il demanio sta portando avanti e che darà un nuovo futuro alla fortezza rendendo la sede dell'archivio di stato e del museo dario fo e franca rame si è insediato oggi il cantiere di marche multiservizi che per diversi mesi rivoluzionerà piazza redi per consentire il radicale rifacimento delle vetuste reti idriche e del gas metano del quartiere frequentemente sottoposto a rotture un intervento da un milione di euro che potrebbe portare anche ad un restyling della pavimentazione della piazza va in questo senso la proposta del sindaco di pesaro andrea biancani avanzata nell'ultima assemblea di quartiere si vuole infatti approfittare dei lavori ai sottoservizi per intervenire con un più ampio progetto di riqualificazione ed ora andiamo a parlare della festa del porto una tradizione pesarese che si rinnova fra spettacoli di fuochi d'artificio cerimonie religiose cortei di barche e il sempre più partecipato concorso di pittura lo spettacolo pirotecnico illumina la notte d'estate sul mare adriatico come ogni prima domenica di luglio pesaro si ferma con lo sguardo all'insù per ammirare i fuochi d'artificio della festa del porto una ricorrenza ultra secolare che mantiene intatta la sua partecipazione di popolo e soprattutto di un quartiere che si immerge magne e piedi in una settimana di celebrazioni che si concludono la domenica a partire dalla consuetudine del corteo di barche che si ritrova per il lancio in mare delle corone dall'oro in omaggio ai caduti la prima a largo della spiaggia di pesaro la seconda all'ombra della falese del san bartolo la solenne cerimonia religiosa in omaggio alla madonna della scala è stata questa volta celebrata da don marco di giorgio vicario del vescovo sandro salvucci assente giustificato in quanto convocato in vaticano per la santa messa celebrata da papa francesco a guidare il corteo di barche la queen elisabeth con la prima volta di alcune autorità dal nuovo comandante della capitaneria di porto nicola gaudino insediato sia pesaro da un paio di settimane al nuovo sindaco andrea biancani è una delle feste più antiche d'italia sono oltre 400 anni che si fa questo tipo di manifestazione è un modo anche per sentirsi uniti per far parte di una comunità che quella del porto che è molto legata a questo tipo di iniziativa una manifestazione bella dove vedo che sono tantissime le famiglie che hanno partecipato molte bar che hanno partecipato quindi vuol dire che le persone sentono questa festa nel cuore e io era la prima volta che partecipavo però sono stato molto contento devo dire che un'iniziativa come questa anche molto importante secondo me dal punto di vista turistico ai turisti soprattutto stranieri piace molto vedere queste quelle che sono le feste tipiche del nostro paese dell'italia questa è una festa tipica e quindi probabilmente dovremmo anche cercare di capire come fare per coinvolgere di più anche per i prossimi anni i turisti perché i turisti sono veramente affascinati da quelle che sono le iniziative che appunto si ripetono ormai da centinaia di anni e quindi potrebbe essere un'ulteriore possibilità tradizioni che si tramandano e che crescono ben oltre i confini pesaresi appartiene a questa categoria il concorso estemporaneo di pittura che caratterizza il sabato della settimana di festa del porto polverizzato il record di 71 partecipanti della scorsa edizione questa volta sono stati ben 85 i pittori provenienti da 13 regioni ad armarsi di tele pennello per fornire la loro interpretazione artistica di uno scorcio del porto nelle otto ore messe a loro disposizione nel concorso organizzato dal comitato quei del port la giuria ha premiato come prima classificata tatiana smirnova di padova in un podio completato da gregorio procopio di catanzaro e lello negozio di perugia il premio emma corvo è stato assegnato invece a franco susta di foligno a dipingere il porto anche dieci giovanissimi artisti insigniti di riconoscimenti speciali e parte integrante dell'identità del porto è anche il circolo canottieri che ha tagliato il traguardo di 70 anni di attività 70 anni che vengono ripercorsi in un affascinante documentario che i rossini tv trasmetterà proprio domani sera alle 21 e 20 e che ci viene illustrato in questa intervista dal suo presidente fabio giustiniani in qualche modo riescono a mettere la bacca arriva le ragazze di pesaro che adesso devono scattare per andare a tagliare il traguardo 70 anni un traguardo importante un traguardo importante e quindi una celebrazione importante per la storia della canottieri pesaro che è una storia particolare essendo stata fondata da da bruno pulia quindi un esolo istriano quindi con tanta passione e con tanti tanti altri valori accessori di inclusione di collaborazione di di intraprendenza oltre che di passione per lo sport 70 anni importante traguardo per celebrare la storia della canottieri quindi per ricordarla attraverso le persone che ci hanno che hanno costruito tutta la storia della canottieri e che ci hanno consentito oggi di poter guardare al futuro su una base solida e vorremmo celebrare questa questi 70 anni non solo con l'evento che è già trascorso ma anche con altre iniziative che stiamo progettando in questo in questo periodo il futuro della canottieri chiaramente è un futuro è un futuro molto audace diciamo se vogliamo quindi basato su obiettivi di eccellenza sportiva di inclusione di responsabilità sociale e di responsabilità anche ambientale tutto questo lo possiamo fare lo possiamo fare per bene grazie alla storia che appunto è stata costruita fin qui e soltanto se guardiamo attentamente alla storia valorizzandone quindi l'eredità che ci ha consegnato e tutta l'esperienza positiva che può essere per noi un bagaglio per poter appunto guardare e costruire un futuro solido e concreto attraverso i giovani soprattutto hanno contribuito in maniera significativa alla storia della canottieri in particolare ai ex presidenti quindi a tutte le persone che con il loro ruolo hanno appunto impostato e contribuito concretamente alla realizzazione della storia della canottieri quindi attraverso la loro voce attraverso la voce dei protagonisti attraverso la voce delle persone che hanno conosciuto i fondatori ci piaceva ricordare celebrare questo lungo e importante percorso della canottieri Pesaro attraverso i suoi 70 anni è un documentario che ha anche l'obiettivo di non far perdere la memoria quindi lasciare al futuro della canottieri che oggi sono i giovani un ricordo indelebile di quanto è stato impegnativo il percorso di quanto ha fruttato quanto quante cose positive sono state fatte fino ad oggi e quante altrettanto se le possano fare quindi in futuro quindi celebrazione della storia valorizzazione della storia e ricordo ricordo e memoria per il futuro della canottieri continuano gli appuntamenti culturali e di intrattenimento dei quartieri pesaresi dall'11 luglio al 22 riparte la rassegna pozzo pazza estate con 11 giorni di spettacoli musicali laboratori per bambini serate danzanti stand gastronomici e tornai sportivi che si terranno nel parco dei tigli di borgo santa maria settimana ricca di appuntamenti al parco miralfiore di pesaro con la sesta edizione di stupor circus organizzata da amat dall'11 al 14 luglio circo e il grito proporrà lo spettacolo il noto e l'ignoto spettacolo che nasce da un'idea di giacomo costantini in cui lo spettatore sarà parte attiva della realizzazione dello show attraverso l'utilizzo di un sofisticato dispositivo che gli permetterà di immergersi interagire e contribuire allo sviluppo dello spettacolo il 12 luglio al teatro sperimentale di pesaro la casa delle tecnologie emergenti ospiterà l'innovation road show grandi ospiti e casi di studio saranno al centro di un momento di confronto alla scoperta delle opportunità di innovazione tecnologica a servizio delle imprese della cultura ma anche del turismo dopo un anno di lavoro dedicato alla connessione fra innovazione imprese cultura e turismo la casa delle tecnologie emergenti di pesaro ospita innovation road show l'appuntamento il 12 luglio al teatro sperimentale con un evento in cui esperti e rappresentanti istituzionali condivideranno le loro conoscenze sull'uso dell'innovazione digitale su asset come turismo e cultura e su come le tecnologie emergenti stiano trasformando questi settori si parlerà di adattamento delle istituzioni culturali tecniche di coinvolgimento nelle città intelligenti miglioramento dell'esperienza turistica e strumenti di supporto per start up e imprese culturali fra gli ospiti anche il vice ministro alle imprese made in italy valentino valentini la tappa di pesaro dell'innovation road show fa parte del tour nazionale dell'innovazione che prevede nel corso dell'anno sette momenti di confronto nelle diverse città italiane che ospitano le case delle tecnologie emergenti quella del 12 luglio sarà dunque un'occasione di sviluppo potenziata dal confronto con i referenti delle altre 12 cte italiane ovvero torino bari l'aquila prato roma napoli campo basso taranto cagliari bologna genova e matera sarà un momento anche una rendicontazione di tutto il lavoro che è stato fatto in questo anno e dove ci sarà la partecipazione anche di tutte le case delle tecnologie d'italia e sarà un momento anche di confronto e fondamentale per far capire che cosa è stato fatto con questa casa delle tecnologie emergenti per me quindi fondamentale far capire al cittadino parliamo tanto di transizione digitale far capire ai cittadini quale sia il percorso giusto per rimanere al passo con l'innovazione e la tecnologia perché nessuno deve rimanere indietro e quindi io mi auguro che la politica da adesso in poi faccia tutto un lavoro per coinvolgere il più possibile le imprese come ho già detto in conferenza stampa sono circa 70 le imprese del nostro territorio che stanno partecipando alla piattaforma digitale della cts square quindi non è un progetto o un lavoro astratto è un qualcosa di concreto che si sta formando poi con il laboratorio che abbiamo anche al terzo piano del palazzo mamiani ci consente di poter riuscire ad aiutare e indirizzare le imprese in tutto ciò che è il nuovo e la tecnologia siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma c'è ancora spazio per una notizia di sport l'ital service pesaro calcio a 5 ha annunciato oggi un doppio rinforzo in vista del campionato di serie a 2024 2025 si tratta del portiere 22enne lorenzo manservigi fresco campione d'italia con la meta catania ed emiliano gastaldo difensore 26enne che nell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia di genzano e siamo davvero arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate ancora con noi perché questa sera nell'appuntamento della cultura della natura della cultura parleremo dei musei civici e tutte le attività che sono in programma quindi vi aspettiamo tra pochissimo e poi in prima serata le 21 eventi il nostro appuntamento con check up obiettivo salute questa sera avremo il piacere di conoscere giovanni d'agostino che è un medico chirurgo specializzato in otorino laringoiatria e parleremo dello titer mentre domani vi aspetto alle 7 20 con la nostra consueta lettura dei quotidiani locali saremo in diretta sul canale 80 e vi ricordiamo anche la diretta sulla pagina facebook ed ora vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni io vi auguro una buona serata